Siamo nella Val d'Agri e stiamo facendo partire un nuovo allevamento. Questi sono i lombrichi che sono stati portati con le casse. Ci sono già i lombrichi che si accoppiano. Ci sono i lombrichi che si accoppiano. Ci sono i lombrichi che si accoppiano. E questo è l'impianto. Questa è l'ultima cassetta che avevamo come jolly. Questa è l'impianto. Buongiorno a tutti.